Non tradire te stesso. Devi sapere che la liberazione psicologica, la libertà psicologica, nasce dalla possibilità di poter vivere e accettare la propria parte nascosta, la propria ombra, senza rinegarla, assimilando i vissuti di esclusione, di rifiuto e di colpa che devono quindi essere accolti e accettati. Infatti il tentativo che in psicoterapia si fa è proprio quello di tessere un dialogo con l'ombra, offrendo a queste dimensioni inaccettabili uno spazio dove possono essere accolte con cura, con affetto e quindi possono essere integrate. Altrimenti continueremo a vivere alienati da noi stessi, senza un contatto pieno con noi stessi e rischieremo di tradire noi stessi. E quando la vita si sente tradita, quando la vita è tradita, finisce per condannare chi non ha saputo darle un'espressione compiuta. Lo dice già Kafka quando scrive che noi siamo peccatori per non avere ancora assaggiato l'albero della vita. Il compito siamo noi stessi. E non realizzare questo compito, non realizzare noi stessi, ci fa sentire in colpa. È una sorta di tradimento di noi stessi. Vedete, la ferita psicologica è un centro energetico che ci regala, ci dona una visione diversa sulle cose. È una sorta di terzo occhio. ma affinché diventi un centro di creatività, un modo di vedere largo sulle cose, questa ferita deve essere curata con amore. Solo allora il miracolo si compie e la ferita irradia la sua luce che consente di vedere una storia diversa di noi stessi, con uno sguardo più ampio, assimilando la nostra storia su un piano simbolico. Perché è soprattutto accostandosi al simbolico che noi diventiamo capaci di usare tutto il potere del nostro inconscio. Ed è allora che riusciamo a realizzare noi stessi. E a non tradirci. Troverete molti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Buona visione.